Diamo il benvenuto ai nostri ospiti di oggi, stiamo parlando di un club, si no ma non fatevi strane idee, si chiama Liberty Club, so che potreste farvi ancora più strane idee, ma non è quello che pensate, anzi è molto meglio di quello che pensate. Buongiorno a Umberto Scabin e Matteo Scantamburlo, buongiorno a entrambi, due terzi degli ostri ospiti, adesso poi arriverà anche un terzo ospite che ci raggiungerebbe qua, perché voi siete fondatori, creatori, ideatori di questo Liberty Club, ma cos'è questo Liberty Club? Perché me lo vuoi raccontare un attimino, prima di approfondire? Assolutamente, grazie intanto dell'invito, buongiorno a tutti. Grazie a Matteo. Liberty Club è una rivista online che è nata nel 2020, nell'ambiente in cui noi tutti ci siamo conosciuti, noi tre, ma anche gli altri membri della relazione, qua noi tre siamo Matteo, Umberto ed Enrico, e appunto eravamo compagni del liceo classico Carducci a Milano, a Loreto. Quindi abbiamo preso, cioè ci siamo uniti col tempo all'idea che era nata presso altri nostri amici di fondare una rivista online di divulgazione culturale. Quindi qualcosa che va oltre, diciamo, il classico giornalino della scuola. C'era anche quello. E voi vedete che facciamo quasi una sorta di spin-off, inserto, facciamo però solo divulgazione culturale. Sì, sì, anche comunque per avere continuità, perché il giornalino poi, quando finisce lì, ha già un'idea di qualcosa di dopo. Sì, a noi è sempre piaciuto scrivere e volevamo farlo mettendoci in proprio e quindi abbiamo tuttora questo giornale online dove scriviamo articoli relativi ai nostri interessi, abbiamo le sezioni di poesia, di racconti, di musica, arte, letteratura. E con questo ci proponiamo di fare una divulgazione che in parte recuperi quella vecchio stile della rivista, del giornale Cartaccio, che non si fa quasi più. Ma sembra quasi una cosa pazzesca questa cosa. Perché il vecchio stile, il giornale Cartaccio, classe, tu Matteo? 2003. 2003, 2002. Perché noi, Matteo Usa, noi pensiamo che queste qui leggono il suo TikTok, non leggono i giornali. E invece com'è questa cosa che avete necessità di un giornale Cartaccio in mano? Nasce proprio da una spinta di voler fare e di voler anche rendersi un po' indipendenti, dove spesso magari gente che vuole scrivere. La nostra missione è parlare con tutti, cercare di diffondere e di portare più collaboratori possibile. E magari ci sono delle persone che vogliono scrivere ma non vengono pubblicate. Noi siamo anche uno spazio per quello, per le persone che hanno delle passioni, degli interessi e amano scrivere e vogliono pubblicare anche formalmente quasi. E allora mi sembra che la prima passione sia proprio la vostra e allora la andiamo a approfondire meglio dopo la prossima canzone perché parliamo appunto questa mattina con i ragazzi di Liberty Club e cerchiamo di capire anche poi dove lo troviamo, cosa possiamo leggere. Se anche noi... Oh, avete qualcosa a pubblicare? Tutti, chiunque, chiunque. Magari trovate il posto giusto in cui pubblicare. Adesso Justin Timberlake con DROVE. DROVE. Justin Timberlake, 8 e 18 minuti. Per i più avvezzi tecnici sentite che c'è un po' di eco. Eh sì, è perché ci sono ben quattro microfoni aperti in questo studio, mai successo, perché ci ha raggiunto anche Enrico Liverani che è il terzo membro, fondatore anche tu? No, no, io ho subentrato ormai un anno fa, quindi sono un membro giovane. Adesso faccio la battuta da bubba, hai fatto l'istituto tecnico tu per quello? No, 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 sembra ma non è così in realtà, non ho fatto... Speravo, perché almeno eravamo in due per quello, invece niente, rimango comunque in minoranza a questo tavolo. Enrico, ben arrivato anche a te. Grazie. So che hai sentito però da fuori quello che dicevano i tuoi compagni di viaggio, tutto giusto? Tutto giustissimo, giustissimo. Hanno proprio reso bene l'idea di un gruppo di giovani appassionati di scrittura e di quello di cui scrivono che intende proprio fare divulgazione culturale, quindi sono stati perfetti per quello che mi riguarda. Ah, ecco, ecco. Ma io voglio capire questo appunto, allora, tutto questo è nato all'interno di un liceo, poi, questo liceo per fortuna mi viene da dire, lo so a voi, perché voi in realtà un anno in più lo avreste anche fatto così per divertimento, giusto? Anche due o tre in più. Anche due, sì. Perché a voi piacevano. Ci trovavo bene. Non vergognatevi, so che siamo uno di quei bulli che... ma non è quello al mio intento, nel senso... No, no, ci trovavo bene. Posso dire che è invidia la mia, nel senso che avrei voluto io avere questa passione già a quell'età, perché voi avete aperto nel 2020, no? Quando eravate in... In quarta. In quarta, in quarta, insomma, quindi, cioè, uno pensa, ma io sono alla fine, c'ho la maturità al prossimo anno, ma che me frega, invece no, l'avete fatto proprio... Di base, da quanto ho capito, cioè, è un lavoro appassionato che parte dalla vostra passione, ma che non si ferma poi lì. No, anzi... E tu sei la prova, perché poi te lo ha accattato per strada, no? Noi siamo la prova, siamo entrati insieme. Esatto, io e lui siamo entrati insieme. Ah, ok, sì, 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 sì. No, abbiamo deciso, con la nostra entrata, di strutturarci un po' di più con queste nuove risorse, quindi abbiamo puntato molto di più anche su fare dei contenuti, magari, per i social, oppure su fare anche eventi dal vivo, collaborazioni, quindi proprio cercare di diversificare non solo articoli, ma anche, appunto, occasioni di incontro con persone, oppure contenuti video che arrivano a più persone possibili. Quindi, aumentare l'engagement, insomma. Esatto. Hai detto eventi dal vivo anche, perché, appunto, non è solo parola scritta, ma è anche conoscervi e conoscere quello di cui parlate e di cui scrivete. Certo, certo. Ma, ad esempio, cosa abbiamo? Lo so che poi... Dobbiamo legare forte con il territorio. Esatto, esatto. Quindi noi cerchiamo proprio di essere sul territorio. Infatti, se possiamo dirlo, domani teremo una conferenza a Milano 2, anzi, a Matteo principalmente, perché c'è questo circolo della Biblioteca di Segrate che organizza incontri culturali. Noi, sei mesi fa, abbiamo cominciato a tenere qualche conferenza ogni tanto, come Liberty Club, e da settembre, da ottobre, andiamo a ogni conferenza che fanno e intervistiamo i vari relatori alla fine. Eh, ma domani il relatore sei tu, però. Eh, domani sono io. La prima domanda è chi lo intervista, poi, alla fine. Io. Ah, ok. Noi due. Io, per la parte videotecnica, lui, proprio come intervistatore. Ok. Faremo finta di non conoscere. Eh, infatti, datevi del lei. E quindi, dottor, no, dottor Scandamburlo, cosa domani ci racconterà? Dunque, io, in questo circolo che si chiama Sporting Club a Milano 2, mi occupo delle presentazioni per quanto riguarda il mio campo, cioè l'arte, e dopo degli interventi che ho fatto su Vermeer e poi sulla mostra di Stelan e Renoir, che c'era stata a marzo, avevo fatto l'intervento a maggio, era ancora aperta. Domani farò l'intervento sulla mostra di Munch, che è aperta ora a Milano fino a fine gennaio. Appunto, mi tento sempre di coprire questi eventi, che sono, insomma, le mostre di Pazzorelli, di solito i punti forti della programmazione artistica di Milano. E, appunto, sono eventi che vanno bene allo Sporting Club, perché ci fanno conoscere a tante persone. Poi li trasmettiamo in streaming sui nostri canali, Instagram, e poi li carichiamo anche su YouTube. E quindi, sì, siamo felici di questa collaborazione e speriamo di continuarla anche nei prossimi anni, perché sta facendo bene a tutti, penso. Sì, sicuramente. Sì, diciamo che non vogliamo... siamo legati al territorio, ma abbiamo anche un occhio internazionale, perché la nostra, appunto, il quarto membro della direzione studia in America. E lei, studiando anche scienze politiche internazionali, ci ha portato molti contenuti di rilevanza davvero internazionale. Abbiamo intervistato artisti, cantanti da ogni parte del mondo, dal Giappone al Sud America. Quindi, è interessante perché nasce da un'identità fortemente milanese, a partire dal logo, ma poi ha proprio fame di espandersi. Hai detto logo, hai detto... Sì. Perché? Ricordiamo bene com'è il vostro logo e da dove appunto viene preso dalla città di Milano, porca, no? Assolutamente, viene preso dalla bellissima facciata della bellissima Casa Galimberti in via Malpighi, in Porta Venezia, e da una delle maioliche in stile Liberty di quella decorazione. E qui si riprende... E ci allacciamo anche al nome con cui ormai chi ci conosce ci ricorda. Infatti, perché appunto Liberty Club è legato anche a questo Liberty, però non è solo questo, giusto? Ha tante accezioni questo Liberty che avete nel nome, no? Esprime anche una sorta di idea di libertà di contenuti, libertà di scrittura, libertà di espressione, libertà di mandarci quello che volete, poi noi lo leggiamo. E soprattutto suona bene, che è la prima cosa. Bisogna anche, come era una volta, anche l'occhio vuole la sua parte, in questo caso anche l'orecchio vuole la sua parte, infatti. Allora parliamo di orecchio, parliamo anche di musica, che è quella che ci ascoltiamo adesso e poi torniamo qui, perché questa cosa del mandateci quello che volete, io voglio capirla bene. Perché qua secondo me, occhio però, perché poi avete una bella casella email di quelle capienti, perché qua... Molto capiente. Ok, perfetto. Allora adesso è il momento di zucchero con Vedo Nero alle 8 e 24 minuti qui su Crystal Radio. Vi ricordo sempre 96.2 FM, DAB+, app per iOS e Android, anche se siete in America come la quarta componente di questo bellissimo gruppo. Zucchero con Vedo Nero alle 8 e 28 minuti qui su Crystal Radio, martedì 12 novembre, sempre qui in diretta per raccontarvi quest'oggi il Liberty Club insieme a Umberto Matteo ed Enrico. Allora, qui avete fatto una call, un'apertura proprio delle vostre caselle email e quasi anche delle vostre case, mi viene da dire. Ah, se avete qualcosa di bello, è già questo però, è una bella disclaimer, se avete qualcosa di bello mandatecelo, no? Perché funziona così giusto Liberty Club? Sì, 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 noi abbiamo un sito, diciamo così, diviso in varie sezioni, sezioni temate, quindi musica, arte, letteratura, cinema, ma prendiamo anche racconti e poesie naturalmente. Quindi ogni sezione ha un capo redattore, in questo caso io mi occupo di cinema, Matteo di arte e di musica, Umberto sta lavorando a una nuova sezione, ma è comunque la parte più di impaginazione, di tecnica, diciamo così. Ed esortiamo proprio la gente a mandarci, a mandarci le loro produzioni e poi il capo redattore le legge, sottopone agli altri, vengono fatte delle correzioni e quasi sempre, devo dire, viene tutto pubblicato. Avviene tutto anche in maniera un po' organica, diciamo per il discorso iniziale che anche le persone della nostra età scrivono pochi articoli, noi siamo quasi sempre in caccia di collaboratori, quindi cogliamo l'opportunità magari in università, di vecchie conoscenze, ah ma ti va di scrivere su Liberty, eccetera, ma poi facciamo anche un po' di spamming su internet e sui social. Poi noi raccogliamo gli articoli E come funziona il po' di spamming? Sono cinque sezioni, magari poi arriva un articolo che non si sa bene, come fa a finire dentro? Diciamo che proprio per come è nato Liberty ci sono stati casi in cui magari la direzione si è riunita e ha deciso che l'articolo non era dato, ma diciamo che noi seguiamo la nostra cosiddetta identità Liberty, che è una sorta di idea per cui di ricercare il bello, di ricercare una cosa fatta bene, non abbiamo limiti fissi, quindi non abbiamo limiti, devi scrivere almeno 30 mila parole, no, se un articolo suona bene, viene bene, noi lo accettiamo a prescindere dalla forma. E se c'è la qualità una sezione si trova sicuramente. Ricordate, l'identità Liberty si manifesta nel... è bello, vi piace? Sì, bene. È interessante perché appunto è un'identità, invece spesso in tempo si parla di giornali e si parla di linea editoriale, no? In questo caso invece è proprio una identità che è molto più profonda, però forse effettivamente lascia più libertà, appunto, in questo caso. Perché noi abbiamo una produzione molto verticale, non seguiamo attualità, non facciamo notizie di agenzia, quindi noi cerchiamo proprio un articolo che tratti quel tema magari in un modo anche un po' diverso, nel senso non la classica recensione di un film o di un disco, ma quello che questo disco può significare in questa, non so, in questa declinazione, per dire. Oppure le comunanze tra il dottor Jekyll e Frank Steiner nel cinema, proprio cose anche specifiche, quindi. Per cui sempre una cifra... Il frecone estremo Liberty, esatto. Mi avete stuzzicato, quindi adesso sapete cosa c'è? C'è la pubblicità, adesso la pubblicità mi vado a leggere un po' di vostri articoli, vediamo un po' che cosa c'è su Liberty Club, che ovviamente si trova anche sui social, da quanto ho capito, basta giocare a Liberty Club e vi troviamo ovunque, giusto? Sì, sì, assolutamente. Assolutamente. Stiamo anche lavorando al sito adesso, il sito per adesso è sempre stato gestito da noi, abbiamo adesso deciso di dare un taglio più professionale, quindi abbiamo assunto proprio una web designer che ci impacchetterà un sito fatto e finito un po' più professionale. Insomma, diciamo che è la fine d'anno in cui c'è tante canne al fuoco. Inizio dicembre, sì. Arriviamo alle feste con un nuovo Liberty? Sì. Più o meno. Gennaio, va bene, ok. Finiamo le feste, non volevo mettervi in pressione. Nuovo anno, nuovo Liberty. Giusto. Perfetto, grazie Matteo. Questa è la giusta chiusa per andare appunto in pubblicità e poi torniamo qui ancora a parlare di Liberty Club con Umberto, Matteo ed Enrico ed ora Meghana Traynor con Mother. Franco Battiato con la cura, le 8 e 39 minuti, è sempre difficile entrare su Franco Battiato, non sai mai quando puoi permetterti di interromperlo, quindi chiedo perdono al grande maestro Battiato, insomma, il tempo è tiranno, i tempi, una volta si diceva i tempi televisivi, beh, perché non avete idea di quelli radiofonici cosa sono. Diamo comunque ancora il benvenuto e il ben contento di essere qui con voi, Umberto, Matteo ed Enrico, tre del Liberty Club, tre che la sanno tutta, la sanno bene anche, perché insomma, l'avete pensata bene questa costoria, secondo me, cioè questa che è bella, nel senso che a me continua questo talo, il fatto che voi appunto siete al liceo, vorrei questa idea, poi incontri gente e la tiri dentro, e poi una in America, e voi tre qui, tutti ben appassionati di quello che fate, perché appunto, fuori quando mi raccontavate che insomma, cioè, tu, Matteo, sei appunto quello che segue la sezione di arte, ma non perché così ti piace disegnare, nel senso perché tu stai per lavorarti in? In storia dell'arte, assolutamente. Ad esempio, Henry invece segue l'elezione cinema e studia comunicazione e, con anche un diritto abbastanza teso allo spettacolo, Umberto, che ancora non ha la sua sezione, ma ci sta lavorando intensamente, arriverà col Food & Wine. Cos'è questa sezione? È una sezione che tende a spiegare, a promuovere, a raccontare con l'identità Liberty, magari dei prodotti di vino, cibo, particolari, sempre appunto seguendo un'identità, una linea che poi decideremo insieme. Io studio scienze di beni culturali, ma ho fatto il terzo livello di sommelier, quindi è una mia passione anche quella. Perché il vino non è considerabile un bene culturale? Assolutamente, per noi sicuramente. Poi il capo rubrica della sezione letteratura, che è un socio fondatore, studia la normale di Pisa, si è laureato in lettere e sta facendo la magistrale in lettere. Quindi sì. Siamo coerenti. Siamo legati alle nostre sezioni. Siete legati alle vostre sezioni, appunto in espansione, e so che avete anche un'idea di aggiungere però, diciamo, un altro, non tanto tema, quanto, diciamo, di riuscire a organizzare alcune storie che tu vorresti riuscire a cogliere, no? Sì, perché comunque abbiamo notato, soprattutto nell'ultimo anno, che oltre agli articoli sono andate per la maggiore le interviste. A chi? Artisti, musicisti, creatori, pensatori che hanno magari un progetto e che magari ne vogliono parlare da qualche parte, dove? Sul Liberty. Quindi noi, anche grazie alla nostra direttrice che in America mi ha fatto molte interviste, proprio per mettere in contatto anche queste persone e dare visibilità anche a chi ha un piccolo progetto o sta proprio facendo qualcosa nel suo. Certo, certo. Un esempio, per esempio, può essere stato, quando abbiamo intervistato Città Invisibili, questa pagina Instagram di cui si è parlato tanto, peraltro ha fatto anche la sua prima mostra di recente. Sì, sì, l'avevamo trovata quasi per caso, ma questa era una persona che si è messo a creare con l'intelligenza artificiale le Città Invisibili di Italo Calvino, graficamente, quindi con immagini generate IA, e ha avuto addirittura una parte nella mostra che hanno fatto a Roma su Calvino l'anno scorso. Quindi noi non lo sapevamo, però poi abbiamo capito che era più grande di quello che pensassimo. È esploso, esploso. Oppure quando, appunto, grazie a Francesca, la nostra collega americana, abbiamo intervistato Takaji Masakatsu, che è un musicista giapponese molto noto, che ha fatto colore del sonore per molti film importanti e che, appunto, ci ha aperto anche la strada a un pubblico più internazionale, come anche altre interviste ad artisti americani. Questo dualismo avete dentro, non ha il spirito internazionale, ma poi comunque ha un collegamento forte con il territorio. Ci saranno anche forse le sorprese. Certo, certo, ma anche perché Milano è così del resto, quindi è città con la sua storia, ma anche internazionale. Poi, forse nel 2025, a Segrati intervisteremo un premio Oscar, forse. Non possiamo dire chi, ma ci sta lavorando. Ah, ci sta lavorando per avere uno di voi tre che prenderà l'Oscar così che vi intervisterete, oppure se volete un muro che ha già preso l'Oscar? No, è più facile far venire uno che ha preso l'Oscar. Ah, dice, più facile. Ah, beh, adesso sto nel cinema, no? Insomma, ti auguro quindi fino a poi di poter essere anche te. L'ho intervistato in quanto detentore di un Oscar. In tutto questo, ricordiamo bene però le coordinate su come fare, dove trovarvi, come, quando e perché. Quindi, attualmente noi abbiamo un sito, che è in lavorazione, però c'è, è online. Cioè, si vede, si vede. Certo, ed è libertyclub.eu, semplice e pulito. Un espiro europeo anche qui. Esatto, e poi una pagina Instagram che è libertyclub, con l'underscore, con il tertino in basso, dove invece abbiamo una produzione invece di contenuti più social e più fruibile. Abbiamo video interviste, reel, e anche proprio abbiamo reel sulla città di Milano, sulla Biennale di Venezia, interviste, eccetera. È anche il modo più facile per mettersi in comunicazione con noi con i direct messages, ma, se no, c'è anche la mail redazione.libertyclub.eu, dove potete mandare tutti i vostri articoli. E su questo ne parliamo dopo la prossima canzone, perché voglio capire che cosa vi è arrivato ultimamente e che cosa potremmo magari leggere appunto nei prossimi numeri, nelle prossime settimane, nei sui social. Capire anche appunto che cosa, anche per dare un consiglio a chi ci segue, magari di scrivere qualcosa un po' più liberty, in modo da poter essere sicuro che finisca all'interno appunto di Liberty Club. Loro sono The Proclaimers e questa è I'm Gonna Be 500 Miles. Vi ricordo sempre, per quelli un po' nerd come me, che c'è un bellissimo video del, non mi ricordo quale, stagione di Dr. Wu, dove comunque c'è tutto un dietro le quinte, mentre tutto il cast, compreso il bravissimo Tenant, canta questa canzone. Devo sempre dirlo, se no non sono contento. Torniamo a Liberty Club invece, Umberto Matteo Enrico, abbiamo detto appunto, mandateci, 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 abbiamo capito più o meno che cosa può andare bene per Liberty Club, cioè praticamente qualsiasi cosa bella, giusto? Non ho capito. Cosa per aver arrivato? Anche questo che voglio capire. Allora, la speranza è che arrivi cosa bella, ma poi nella realtà è così. No, beh, sì, ultimamente appunto, essendo che stiamo rifacendo il sito, stiamo spingendo soprattutto sui social, con i reel, le interviste dello Sporting Club, però stiamo intanto accumulando gli articoli per poi quando ci sarà la ripartenza. E tra le cose che ci sono arrivate ultimamente, c'è un racconto molto bello, di una persona da biella, ma anche articoli di... uno di musica ne abbiamo, uno di cinema, ci è arrivato, e poi in preparazione ci sono un articolo mio di arte, anche questo legato a Milano. Ma poi c'è anche un articolo che arriva da una che avete trovato di un ascensore. Com'è questa storia qui di un ascensore? Ah, beh, effettivamente. Vabbè, 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 vabbè. Sì, abbiamo io e Umberto in università, in via Festa del Perdono, prendiamo un ascensore, in quei momenti morti fondamentalmente che si crea un ascensore... Non c'era neanche uno specchio in cui guardassi i punti neri, quella cosa lì? No, no, in statale non c'è. O Paco. Quegli ascensori anni 60, 70... E quindi cosa ti viene in mente di fare? Attacchiamo un bottone con questa ragazza e visto che si aveva una mentalità aperta, imprenditoriale e predatoria, diciamo, ma tu scrivi qualcosa, hai qualche passione, dai, ah sì, sai, mi piacciono i videogiochi, la musica, mandaci un contenuto, e ci ha arrivato da poco adesso... E questa ragazza non solo ci ha seguito su Instagram, quindi è riuscita a risalire alla mail, perché il tempo in ascensore è poco, quindi seguici su Instagram. Ci ha seguito, ci ha messo like, ci ha scritto su Instagram, e poi ci ha inviato alla mail redazionale un articolo molto interessante. Sì, sì, che stiamo leggendo adesso. Sì, stiamo leggendo. Oh, bene, bene, bene. Il giornalista Clickbait ti direbbe anche il caporedattore Cucca in ascensore, invece no, invece no, devo dire che è una bella storia. È una bella storia anche perché appunto fa capire il spirito che c'è dietro, cioè veramente predatoria mi è piaciuta in un certo senso, quasi all'arrembaggio a volte viene da dire, nel senso piratesco, nel senso però del termine di vogliamo tutti a bordo, in un certo senso. C'è posto per tutti. Ecco, c'è posto per tutti, purché ci sia della bellezza da portare. Siamo capito bene questo e il vostro... Lo spirito deve essere questo, perché ovviamente noi ci impegniamo tanto, i nostri sforzi ci sono sempre stati, però per andare avanti è necessario la collaborazione e l'interconnessione che in questi anni abbiamo avuto, ma vogliamo avere sempre di più. Ecco, sulla nave virare verso una direzione nostra. Nuovi lidi. In fondo c'è il famoso numero cartaceo. Sì, sì, sì. L'isola del tesore. Sì, sì. Il Dorado. Il Dorado. È il nostro grande sogno. È un bel numero di carta. Trimestrale, non lo so, semestrale, ma sì. Ah, sì, sì, ok. Scusate, Beatrice mi mandava delle comunicazioni, lo facciamo dopo, grazie Beatrice, scusatemi. Anche perché siamo arrivati quasi alla fine e quindi, prima di salutarci, ricordiamo bene tutte le coordinate per chi magari si fosse collegato solo in questo momento, ma soprattutto sono capito di questo nuovo sito, però in realtà non è che arriva a chissà quando, è pronto praticamente. Pronto? Sì, è un progetto che è iniziato a inizio dicembre, ci è stato dato un tempo di un mese, quindi i primi di dicembre... Inizio novembre, quindi. Sì, scusi. Inizio novembre, quindi ai primi di dicembre avremo il sito nuovo pronto. È pronto, con tutte le nuove sezioni, con... Multimediale, dinamico, professionale, insomma. Ecco, food and wine anche. Assolutamente, parlando degli articoli che abbiamo in mente, sì. In cantiere, c'è anche quello. E dicevo appunto, quindi ricordiamolo bene, il sito e i vostri social e anche appunto che tipo di articoli, che tipo di contenuti volete ricevere. Le sezioni sono... Le sezioni sono cinema, musica, arte, racconti, letteratura e poesia e food and wine in futuro, diciamo così. E food and wine. C'è già, c'è già. Racconti, letteratura, arte, poesia, cinema, musica e redazione che è un menu che non c'entra niente. Non l'avevo capito. E food and wine. E food and wine. E poi le nostre coordinate sono il sito che è libertyclub.eu e il profilo Instagram che è... Il profilo Instagram è libertyclub-basso. Ok. Non si può sbagliare. E la mail redazione.libertyclub.gmail.com Ok, bene. Se c'era la quarta, dovevamo trovare un altro social da dire perché sennò eravamo finiti. Ti dobbiamo mettere dopo, perché ti fanno TikTok se non lo sapevamo come fare. Non ancora. Ecco, grazie. Avevo paura che mi dice se lo sto facendo. No, questo è il boomer che c'è in me. Non ci mancherebbe. Ragazzi, grazie. Portate saluti. Prima di tutto alla direttrice d'America. La salutiamo. Anzi, salutiamola. Come si chiama? Francesca. Francesca. Grazie, Francesca. Ciao. 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 Di tenere insieme le cose, di tirare le fila. E a tutto, però, tutto il gruppo, che insomma, so essere numeroso di chi partecipa one shot e chi partecipa invece, giusto? Certo. Tutti sono importanti e menzionati. Sì, sì, sì. Ecco, quindi poi sul sito trovate anche quello. Primo dicembre, sito nuovo, mi raccomando, Liberty Club. E adesso non ci resta quindi di chiedere grazie Umberto, Matteo ed Enrico. Grazie a te Rufus. Grazie Rufus. Grazie mille. Ascoltare la nostra sigla. Grazie a te Rufus.